Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati in un nuovo video di Clash of Clans e siamo nel secondo sneak peek di questo nuovo aggiornamento di marzo. Come possiamo vedere da questa schermata ci hanno spoilerato i nuovi livelli di truppe che saranno sicuramente disponibili per TH11. Questi aggiornamenti sono principalmente per i municipi alti, il più alto sinceramente, e possiamo vedere il Domatore di livello 6, i Goblin di livello 7 e le Valkyrie di livello 5. Inoltre su questa schermata già vedo un piccolo cambiamento sull'immagine dell'accampamento lì in alto a sinistra perché c'è il Prado che a me fa abbastanza schifo vederlo così. Prima era molto più carino con solamente il simbolo che va a contraddistinguere i vari livelli di accampamento e questo già è un piccolo aggiornamento. Vi faccio vedere anche come sono le texture delle nuove truppe come ad esempio le Valkyrie hanno il mantello stile gigante di livello 6 e livello 7, i Goblin hanno una sorta di cresta a punta, sono davvero carini, mi piacciono davvero tanto e i Domatori sono fantastici con le mazze, con le punte. Sono davvero fantastici e secondo me saranno pure devastanti. Li vediamo subito in azione molto molto velocemente, sia Domatori che vanno sulle difese di questo villaggio di prova e anche i Goblin che sono davvero velocissimi e raziano le risorse in un secondo. Inoltre ragazzi le Valkyrie saranno davvero devastanti. Io non capisco perché la Supercell adora praticamente, le Valkyrie cercano ogni aggiornamento di farle più forti ma questa volta avranno davvero un impatto incredibile. Come potete vedere da questo attacco con questa disposizione di truppe che sono tipo 28 Valkyrie, alcuni maghi e solamente gli eroi maxati, anzi solamente sono devastanti gli eroi maxati del TH11 con 3 pozioni del salto e 5 pozioni della velocità ha praticamente devastato questo villaggio completamente maxato livello 11. Entra all'interno del villaggio con queste Valkyrie che vi dicevo sono state potenziate. Hanno aumentato la potenza dell'attacco quindi faranno un danno molto molto maggiore però gli hanno ridotto leggermente la vita perché se no raga erano praticamente devastanti, erano fortissime. Sono molto veloci quindi per la Kill Squad saranno davvero interessanti, distruggeranno tutto però staremo a vedere con tutta questa potenza secondo me potranno avere un utilizzo maggiore anzi sicuramente avranno un utilizzo maggiore ma dovremmo capire più o meno come strutturare le strategie. Attacco davvero devastante, riesce a fare il 100% a questo villaggio. Comunque ragazzi questo era un TH10 non un TH11 voglio precisarlo. Altro aggiornamento molto molto interessante riguarda la pozione del veleno che non è stata toccata in quanto a danno e ad effetto però guardate che cazzo di aggiornamento hanno fatto davvero incredibile. Una volta che noi posizioniamo la pozione del veleno le truppe del nostro avversario difensive escono dal suo raggio d'azione quindi non sono più soggette al veleno, non perdono di vita di conseguenza non si potrà più utilizzare la strategia di far stanare le truppe, di stanare le truppe e buttarci sopra una pozione del veleno e farle fuori senza posizionare nostre truppe. Però secondo me già era stata neffata questa cosa togliendo i 30 secondi di battaglia. Togliendone 30 ovviamente non si aveva più il tempo per far fuori magari il drago con due pozioni e così via. Ultimo aggiornamento anche questo molto carino possiamo sapere quante risorse sono rimaste all'interno del carretto. È davvero carina questa cosa molti se lo chiedevano perché non sapevamo appunto quante risorse c'erano al suo interno. Rimaneva spesso emarginato su un angolo del villaggio perché non riusciamo a prenderle magari. Avevamo le risorse piene così possiamo sapere quanto c'è al suo interno e possiamo gestirci meglio con il ritiro eccetera. Grazie per aver seguito questo sneak peek. Vi ricordo di lasciare un commento con i vostri pareri, un mi piace per supportarmi. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!